Grazie Presidente, sono molto perplessa da tante cose che ho sentito, mi lascia perplesso il punto di vista di determinati schieramenti politici che in questo contesto portano avanti discorsi ancora ghettizzanti che sono previsti in altre delibere, sempre regolamenti su questa materia e mi lascia anche perplesso il fatto che queste stesse forze politiche si vantino di essere, che sia merito loro il fatto che siano state sgomberate delle persone, penso che sia, è una cosa che mi fanno ridire, scusate ma proprio a pelle io queste cose non ce la faccio a sopportarle e mi domando se queste persone riescono a volte a immedesimarsi, noi non scegliamo mai dove nasciamo, noi nasciamo in un posto e viviamo in quel posto ed è un caso il fatto di essere nati in casa nostra e non in un campo rom e probabilmente queste persone dovrebbero pensarci prima di puntare il dito e prima di dare un valore e un nome alle cose, credo che la dignità di ogni persona del mondo e a maggior ragione la dignità di ogni persona che viene al mondo debba essere rispettata. Io ringrazio nuovamente i promonenti di questa delibera per aver portato la possibilità di alzare il livello della discussione, di poter affrontare finalmente a viso aperto questa problematica. Ciononostante io rilevo che tutto quello che loro chiedono con questa delibera già è previsto nella delibera di chiusura dei campi rom, che lo ripeto, non è scolpita nella pietra, mano a mano che ci sono delle modifiche da fare, degli aggiustamenti da fare, questa delibera viene modificata ed aggiornata e io li invito loro come anche tutti gli altri, i consiglieri che non sono nella mia commissione, a partecipare alle commissioni quando abbiamo l'audizione dell'ufficio di Scopo Rom, che ci aggiorna su questa tematica e l'invito seriamente, l'invito con intenzione partecipativa, il dottor Sasol è sempre il benvenuto, lo sa, ma io invito veramente tutti quelli che hanno necessità e voglia di approfondire e ringrazio anche i consiglieri del Partito Democratico per aver portato quell'ordine del giorno che ci consentirà comunque di migliorare l'aspetto di quella delibera, che è quello della condivisione dei risultati, che è quello della collaborazione per il raggiungimento dei risultati. Noi su questa delibera purtroppo ci asserremo, ci asserremo non perché non la consideriamo valida, perché la consideriamo estremamente valida, tant'è che poi abbiamo fatto una delibera di giunta che attua queste cose, però non è una delibera modificabile come tutte le delibere di iniziative popolari e noi non possiamo prevedere tra le varie possibilità per il percorso abitativo che ci sia l'autocostruzione. Può sembrare un particolare non importante, ma per chi vive una città come Roma e vive le sue complessità sa che non è un particolare sciocco, è un particolare abbastanza dirimente. Nonostante io veramente continuo a ringraziare i proponenti e li invito caldamente a collaborare con questa amministrazione. Noi ci asserremo. Grazie Presidente.